Palazzo Grassi, in cui siamo in questo momento, e Punta Adogana, che è la nuova sede restaurata grazie a Tadao Ando, sono un unico museo con due sede diverse. Ciascuna sede avrà un ruolo diverso. Il cuore della Punta Adogana sarà una collezione permanente delle opere di François Pinot e Palazzo Grassi svolgerà un ruolo più di mostre temporanee, legato al contemporaneo e anche alla collezione di François Pinot. Un museo, per essere vivo, deve non solo avere una collezione geniale, magnifica, come è quella di François Pinot, ma in più avere un rapporto con un pubblico. Dunque, prima di tutto il pubblico di Venezia, e dunque con le realtà culturali veneziane, le università, le accademie. E' quello che stiamo sviluppando da già un anno e che sarà ancora più forte per i prossimi mesi e i prossimi anni che verranno. Corsi che si faranno all'interno del museo, percorsi diversi che permettano di incontrare o gli artisti e le opere. E dunque, questo è il primo punto su cui dobbiamo andare. Dopodiché, ovviamente, abbiamo un pubblico internazionale che viene a Venezia e io l'ho visto venire spesso cercando giustamente a capire che cosa è il massimo della modernità che evidentemente François Pinot ci offre, visto che lui va in cerca costantemente di nuove opere. Un museo, per essere una cosa viva, deve avere una serie di manifestazioni, ma soprattutto, io direi, un rapporto con il territorio. Noi siamo qui a Venezia e dunque Venezia è una città molto viva. E ci sono tantissime realtà culturali, fondazioni, altri musei, le accademie e soprattutto le università che hanno, come dire, un grado di eccellenza fortissimo e dunque questo rapporto l'abbiamo avviato facendo dei incontri con gli artisti, ma li svilupperemo perché la collezione di François Pinot che si può vedere sia appunto a Dogana che a Palazzo Grassi ha una forza straordinaria. In più, sono opere che raramente si possono vedere. François Pinot è sempre alla ricerca di nuove cose, nuovi artisti, ma confirmando anche i grandi. Dunque ci saranno una serie di lezioni che si faranno qui, delle visite un po' particolari, dei incontri sia con gli artisti che con altri curatori o personalità intellettuali che sanno parlare di quello che succede. Perché un museo deve essere non solo un luogo, una galleria, deve essere anche un mondo vivo dove uno entra, ha il gusto di quello che vede o il disgusto, ma nello stesso tempo può entrare, può avere almeno qualcosa che gli dà la possibilità di capire in che mondo siamo e gli artisti ci lo dicono a modo loro.